Questo è il primo passaggio, dal frigo, le bistecche e poi le unità ai pupisti. Vengono salate, vediamo già la cottura di prima, qui più cotta. Il segreto è la frullatura della bistecca, il segreto è la carne che proponiamo noi. Tutta carne torfetana, tutte carne che noi gli stiamo presso tutto l'anno, cerchiamo di proporre sempre il meglio della nostra terra a chi viene e chi ci premia. Negli anni ormai sono tanti le persone che anno dopo anno sono sempre più presenti. La mentucciata è un piatto tipico torfetano povero, prima si faceva con il pane a raffermo, poi si metteva a sorridere cipolla, aglio, mentuccia, olio e poi acqua. Quando l'acqua si insaporiva con i feperoni, si buttava giù le patate. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rosanna, tanti auguri a te. Un bel applauso! Un bel applauso!